L'unione tra queste due realtà che hanno un vincolo per noi anche di carattere spirituale e affertiamo ancora vivo e forte perché la devozione di San Francesco, in particolare per San Michele Arcangelo, è nota quanto la protezione di San Michele Arcangelo ha accompagnato i passi di Francesco e accompagna anche i nostri. Il fatto che si celebri oggi questo patto di amicizia in qualche modo è in continuità con questo legame spirituale che avvertiamo. E quando ho saputo che arrivava a termine questo processo che era stato avviato appunto quando c'era padre Giuseppe Pionottese Custode, ho detto ma guardate come si combinano le cose perché appunto padre Giuseppe era il Vescovo a Terni, quindi è come se in qualche modo si chiudessero anche dei percorsi, dei cerchi. Ecco che invece di mettere la parola fine è come se poi rilanciassero in avanti anche i significati che contengono. Per cui oltre a questa gioia del poter partecipare, ecco accogliervi qui, anche l'auspicio che questo patto di amicizia che viene sottoscritto tra i due enti locali, ecco contribuisca a far fiorire ancora e a far crescere ancora questa amicizia anche spirituale e poi speriamo anche in alcune forme che questo rapporto si possa tradurre, possa esprimersi anche così in qualche scambio che vedremo in che modo si possa realizzare. Quindi grazie ai sindaci in particolare, a padre Giuseppe che è stato un po' il principio ispiratore, ho capito, di questa iniziativa e a voi che siete qui con me. Buongiorno a Sindaco Ricci e ringrazio tutti naturalmente per l'accoglienza, un saluto naturalmente da questi tanti rappresentanti del Consiglio Comunale di Assisi, quindi un caloroso saluto a tutta la comunità di Assisi, buongiorno eccellenza, ancora grazie e buongiorno e grazie anche a padre Mauro Gambetti. Oggi sicuramente è un giorno speciale, lo è per Monte Sant'Angelo sicuramente, spero anche per Assisi, lo è per me che ho l'onore anche di rappresentare Monte Sant'Angelo, un giorno di gioia e di fratellanza tra queste due comunità. Come diceva anche padre Mauro, iniziamo oggi un percorso di condivisione e dialogo utile a rafforzare le relazioni istituzionali e incentivare rapporti sociali e culturali, naturalmente religiosi. E' un rapporto questo fra Monte Sant'Angelo e Assisi che insomma risale molto tempo fa, molto tempo addietro, noi parliamo dell'inizio del XIII secolo quando nel 1216 un umile frate di Assisi saliva la montagna dell'Angelo e è arrivato davanti alla grotta dell'Arcangelo. Michele si ritenne indegno di varcare quella soglia, la tradizione ci dice questo, non vi fece ingresso e di tale venerazione l'umile frate lasciava come testimonianza in peritura il segno del Tau proprio per consacrare la sua venuta e la sua dedizione al nostro venerato Arcangelo. E' un santuario quello di Monte Sant'Angelo sindaco, patrimonio ulesco anche dal 2011, è annumerato anche secondo le ultime notizie diciamo che vengono anche dalla stampa internazionale fra le dieci grotte sacre più belle al mondo che in più di 15 secoli di storia è stato visitato da imperatori, santi, sicuramente da tanti illustri personaggi e ancora oggi è meta interrotta di pellegrinaggi, però la vestita naturalmente di San Francesco è stata quella sicuramente con una valenza spirituale ed evoluzionale senza pari. Oltretutto la venuta di San Francesco a Monte Sant'Angelo ha anche rappresentato l'occasione per far sorgere lungo il percorso del pellegrinaggio di Francesco tanti conventi e uno proprio a Monte Sant'Angelo, anzi la tradizione dà proprio a Francesco il sigillo del nostro convento, quello dei frati minori conventuali di Monte Sant'Angelo, io approfitto anche per salutare padre Salvatore Sabato, così il cognome che rappresenta appunto i frati conventuali di Monte Sant'Angelo. Quindi è una unione quella di oggi legata sicuramente sulla fede ma anche io spero, come diceva anche padre Mauro, che ci possano essere degli sviluppi che riguardano sia anche una unione di arte, di tradizioni, di religiosità popolare e quindi è un patto di amicizia che ha un grande valore insieme spirituale e culturale, naturalmente il tutto sotto la protezione di San Francesco e di San Michele Arcangelo. Io devo fare dei dovuti ringraziamenti per questo giorno veramente speciale, io voglio ringraziare tutti quelli che si sono adoperati affinché questo patto di amicizia venisse oggi poi stipulato e quindi si conculasse leader, grazie al mio assessore Giovanni Granadiero che sicuramente ha avuto grande parte. Da Coricci, io dico padre Giuseppe Di Montesi perché l'abitudine è sempre quella ma oggi sua eccellenza reverendissima per tutto quello che ha fatto affinché questo si realizzasse. Voglio concludere soltanto, ho alcune parole di San Francesco che diceva per quanto si fa un percorso di questo tipo, poi il lavoro è tanto, cominciate a fare ciò che è necessario e poi ciò che è possibile e vi renderete conto che state facendo l'impossibile. Grazie ancora a tutti, vi aspettiamo a Monte Sant'Ange. Il quotidiale incontro e poi soprattutto per la presenza di tutti coloro che vengono da Monte Sant'Angelo, il vostro mirabile sindaco e faccio tutto questo di cuore a nome del Presidente del Consiglio Comunale e dei numerosi consiglieri presenti, a nome del Vice Sindaco e dei numerosi assessori presenti e credo che la loro presenza ampia vada a sottolineare innanzitutto il crescente, ampio, efficace rapporto con le due basiliche, in particolare con la basilica papale di San Francesco e ringrazio il custode padre Mauro Gambetti per l'afflato di collaborazione culturale e istituzionale che ha caratterizzato la nostra collaborazione e continuerà a caratterizzarla. Ringrazio nuovamente il Sindaco di Monte Sant'Angelo per la sua cortesia, per il suo essere oggi qui ad Assisi insieme ai suoi concittadini, ai suoi amministratori e mi auguro che la città di Assisi sappia accogliervi. Credo che il fondamento principale del dialogo sia quello dell'accoglienza reciproca, dell'ascolto e dell'accoglienza reciproca. E poi Monsignor Giuseppe Piemontese e la declinazione di padre Monsignor Giuseppe Piemontese è a noi consona e a noi legata ai lunghi anni di amicizia, di collaborazione e voglio sottolineare come la conclusione del suo cammino ad Assisi e l'avvio di un altro cammino nella diocesi di Terni abbiano però coinciso con una sosta, utilizzando terminologia francescana e terminologia legata ai cammini, proprio collegata alla firma di un accordo di collaborazione tra il comune di Assisi e il sacro convento, che ha determinato ulteriori fondamentali passi di collaborazione. Noi riteniamo che il gonfalone lo inserisce fino anche nel motto, come dovrei dire dal punto di vista randico, che la seratica civitas sia tale solo quando, così come in linea con gli otto secoli di storia, l'istituzione comunale, dialoghi, collabori, cammini insieme a quella francescana in linea con l'origine francescana e la storia più mirabile della città di Assisi. Credo che un patto di amicizia, signor Sindaco, sia sempre un'occasione per ricevere qualcosa. Questo mondo ci insegna che non ci sono gradi, siamo tutti identici, uguali, ma profondamente anche diversi nei carismi e nei valori. E ogni patto di amicizia, ogni incontro, che sia incontro fra persone, che sia incontro fra comunità, è sempre un elemento di reciproca crescita e un momento dove reciprocamente si dona e si riceve, così come avviene durante i cammini e durante i perlegrinaggi. Peraltro San Michele e San Francesco, ovviamente figure che nella storia si intagliano con simbologia, valori, momenti storici diversi, ma sono accomunati da una scelta forte e non tiepida. In un mondo dove c'è molto grigio, dobbiamo fare scelte forti. Nel loro caso la scelta fu quella di scegliere Dio, la verità. Scegliere, fare una scelta forte. Credo che questo valore che entra anche nelle simbologie di San Michele e di San Francesco sia un elemento che oggi viene posto di fronte a noi. In un momento complesso, dove esiste molto grigio, dove c'è molto tiepido, occorre fare scelte forti, scelte chiare. E credo che anche questo pacto di amicizia, che si fonda nella istituzione delle due città, ma che trae vita, vitalità, anima, dai valori antichi della tradizione cristiana e della santità cristiana, sia un elemento e una scelta sincera, forte e precisa. Sono due figure che hanno avuto un altro elemento che li ha legati, la fedeltà. Essere fedeli alla scelta presa. Essere fedeli alle istituzioni, per quelli che, come noi, svolgono un servizio. Essere fedeli, col dovere ampio, verso le istituzioni e verso il cammino che si è scelti. Peraltro in questi anni, anche da Presidente dei siti UNESCO italiani, ora Presidente onorario, ho seguito con particolare affetto e con particolare ampiezza l'inserimento di Monte Sant'Angelo nel quadro delle città dichiarate dall'UNESCO patrimonio di tutta l'umanità, facenti parte del sito seriale dei Lungobardi in Italia. È uno dei nostri siti seriali più importanti, dal nord al sud d'Italia. Ed è un sito seriale che, tra le numerose determinazioni, ricorda che il nostro paese, dal nord al sud d'Italia, fa emergere valori storico-artistici e veli culturali mirabili. E poi il ruolo delle due città. La storia ha segnato alle due città un ruolo. Sarà perché, come direbbe, come ha detto ad Assisi il santo Giovanni XXIII, le città sul monte hanno un ruolo. Assisi, città sul monte, come dire Giovanni XXIII, ha un ruolo della storia. Ma anche Monte Sant'Angelo, posto in uno sperone, ha un ruolo della storia. Sarà perché queste due città, sono poste sul monte, hanno avuto un ruolo importante nella storia. E in questi giorni, rileggendo ciò che disse anche Padre Dio, Santo Padre Dio, ebbe dire una sua frase che, prima di andarlo a trovare, bisognava probabilmente passare per Monte Sant'Angelo. A dire il ruolo che queste due città, e anche Monte Sant'Angelo, hanno avuto e debbono testimoniare, diciamo, con i fatti, con l'operosità anche della storia attuale. Voglio concludere dicendo che un protocollo di collaborazione serve molto per acquisire una sempre più ampia consapevolezza del ruolo delle città, una sempre più ampia consapevolezza delle modalità e possibilità di valorizzare i luoghi reciprocamente. Un protocollo, certo, un documento che viene firmato, è un segno, ma direi è un impegno a svolgere un cammino insieme. Nei protocolli, e anche in questo protocollo, sono citate le valenze di promozione culturale, quelle di promozione legate al turismo, i valori legati al dialogo, alla pace. Ma credo alla fine i protocolli sono un impegno a compiere un cammino insieme e farlo anche con piccoli eventi. Si pensa alle grandi iniziative, credo che invece i protocolli come questi sono importanti perché ciò che ci ha comunato è il pensiero che saranno i piccoli passi, i piccoli gesti, le piccole iniziative continue che daranno a questo protocollo di collaborazione unanima e una efficacia. Mi auguro che sia questo l'avvio di un lungo itinerario. Negli itinerari e nei cammini c'è la meta da raggiungere, ma poi ci sono le soste, i momenti in cui le due comunità si incontreranno e attraverso l'incontro potranno conoscersi meglio, potranno vivere insieme un'esperienza, potranno insieme fabbricare quei ricordi utili di valori sulla scia degli insegnamenti di San Michele e di San Francesco e anche con quel senso di eredità che anche questo protocollo di collaborazione ha in sé, lasciare a chi poi dovrà continuare un'eredità di valori e anche una direzione dei cammini futuri. Grazie a tutti voi. ...dividere idealità, progetti nel nome dei rispettivi patroni, San Francesco d'Assisi e San Michele Arcangelo. La comunità del Sacro Convento speccia nelle persone, nei padri custodi che si sono succeduti negli anni. Credo che un primo approccio sia stato fatto con padre Vincenzo Cori e poi tutti gli altri. Ha propiziato e favorito l'incontro e la realizzazione di questo momento civile e religioso, quasi un sogno. Un parto di amicizia non suggella il superamento di un precedente stato di conflittualità, ma rafforza e rilancia legami di fraternità, di condivisione e unione, già in essere o in progetto. Il patto di amicizia traduce l'antico gemellaggio tra due città, legate da affinità in ordine alla propria storia, alle idealità di spiritualità, di cultura, di socialità, di pace e di progetti condivisi che si vogliono realizzare. La terra di Puglia non era sconosciuta agli assi sani, nonché a Francesco già prima della sua conversione. Terra meta di pellegrinaggi che da ogni parte del mondo di allora si recavano a visitare i santuari di San Michele del Monte Gargano e di San Nicola di Bari, di cui oggi celebriamo la festa. Ortolana, madre di Santa Chiara, oltre che in terra sante a Roma, si recò in pellegrinaggio sul Monte Gargano a venerare l'arcangelo San Michele. Il fatto non sfuggì a Francesco e l'anonimo di Bruxelles ci fornisce la notizia che anche Pica fece altrettanto. Anche il vescovo Guido compì il pellegrinaggio a San Michele e al ritorno ebbe l'apparizione del santo già morto. Francesco, innamorato della Puglia, fu impedito a realizzarvi sogni di gloria mentre già si trovava in viaggio a Spoleto da un misterioso Malarno che lo costrinse a tornare in Assisi. Dei suoi tre viaggi in Puglia, 1216, 21-22 e 1224, a noi interessa il pellegrinaggio alla grotta dell'arcangelo San Michele a Monte Sant'Angelo sul Monte Gargano nel 1216. La tradizione afferma che il poverello, non ritenendosi degno, non entrò nella grotta dell'arcangelo ma sostò sul limitare lasciando a ricordo un tau inciso su una pietra. Certamente giovani di Monte Sant'Angelo si associarono al poverello tra i penitenti di Assisi. Le cronache di Giordano D'Agiano raccontano di frate Palmerio da Monte Gargano, tipo allegro e spiritoso, che partecipò al capitolo delle stuoie, partì per la Germania e fu fondatore e guardiano di Magdeburgo. È interessante leggere questa cronaca, un episodio che lo interessò in maniera particolare, un episodio gustosissimo. La provincia francescana di Puglia, una delle prime 12 province madre dell'ordine nel 1217, suddivisa in due nel 1230, diede vita a nord alla provincia Santi Micaelis Arcangeli de Monte Gargano. Del resto l'amore e la devozione di Francesco D'Assisi verso l'arcangelo San Michele è richiamato in tanti passi della sua vita ed è parte importante della sua spiritualità. Dice la leggenda maggiore, per il beato Michele Arcangelo, dato che ha il compito di presentare le anime a Dio, nutriva particolare devozione e speciale amore, dettato dal suo fervido zero per la salvezza di tutti i fedeli. Questo era l'obiettivo di Francesco D'Assisi, la salvezza delle anime e tutto ciò che ricordava questo o favoriva questo era per lui importante e perciò l'attenzione e l'amore per San Michele Arcangelo. Nelle sue preghiere quasi mai manca il riferimento all'arcangelo Michele. In preparazione alla sua festa digiunava per una quaresima e fu proprio durante tale quaresima del 1224 che Francesco sul Monte della Verna ricevette le stigmate. Sempre la leggenda maggiore dice Due anni prima che rendesse lo spirito a Dio, dopo molte e varie fatiche, la provvidenza divina lo trasse in disparte e lo condusse su un monte celso chiamato Monte della Verna. Qui egli aveva iniziato, secondo il suo solito, a digiunare la quaresima in onore di San Michele Arcangelo. In questa circostanza ci avete le stigmate. Nella città di Monte Sant'Angelo, nei secoli, la memoria francescana è stata tenuta viva dalle monache clarisse non più presenti e da alcuni conventi di frati. Ancora oggi è presente una comunità convento di San Francesco che si vuole risalente al poverello e che ha favorito la vocazione francescana di numerosi frati minori convettuali. Oggi la città di Monte Sant'Angelo, interpretando il desiderio dei cittadini e della comunità cristiana, vuole legarsi con patto di amicizia con la città serafica, patria di Francesco e di Chiara e di tutto il movimento francescano. Vogliamo condividere e promuovere ulteriormente i valori civili e soprattutto spirituali legati al carisma di Francesco, fede, amore a Dio e ai fratelli, accoglienza e condivisione della pace di Cristo, fraternità con ogni uomo di qualunque razza, credo, religione e condizione sociale, rispetto e custodia della creazione, speranza e perfetta letizia, quali doni di Gesù Cristo, di Maria Santissima e dei suoi servi, Francesco e Chiara di Assisi. Cari sindaci e cittadini di Assisi e Monte Sant'Angelo, il patto di amicizia non sia solo un atto formale, ma una relazione di fraternità, di amicizia vera. L'inizio di una storia entusiasmante di un percorso che nel nome dei nostri santi contribuisca alla crescita civile, culturale e spirituale dei nostri concittadini e delle generazioni al presente e al futuro. Grazie a quanti si siano adoperati per raggiungere questo traguardo, sindaci, amministratori, funzionari, collaboratori e a quanti in futuro ne trarranno frutto e terranno vivo il gemellaggio, oggi stipulato. Il Signore ci dia la pace. Ora dobbiamo procedere all'atto della firma. Grazie. Grazie. ...l'azione istituzionale verso le proprie comunità locali e nelle relazioni internazionali, ispirandosi ai valori di Francesco D'Assisi e dell'Arcangelo Michele. Il patto di amicizia tra le due città istituzionalizza la comune decisione di incentivare rapporti di unione, vicinanza, condivisione e fratellanza nel nome dei valori umani, culturali, religiosi e sociali. In virtù di tali intese saranno intrapresi progetti congiunti, tesi a promuovere e sostenere reciprocamente l'incontro familiare tra le nostre popolazioni, i pellegrinaggi, la valorizzazione del turismo culturale e spirituale e le comuni esperienze e una reciproca promozione delle città nel nome dell'Arcangelo Michele e di San Francisco. ...perché grazie alla sua opera in Spagna, nel 2014 e parte nel 2015, il governo spagnolo della Regione Galizia, lo dichiarato anno tra gli insieme. ... 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